Oggi parliamo dello sviluppo della guida autonoma FSD Supervised, poi dell'espansione della rete Supercharger perché se ne è parlato un po' nell'ultimo periodo e poi purtroppo brutte notizie per chi vuole una Model 3 nera. A tra poco! Bentornati a Lampi di Tesla, oggi torniamo a parlare di FSD negli Stati Uniti perché Elon ha dato qualche dettaglio molto interessante e importante per i prossimi sviluppi, quindi le prossime versioni. Come sapete con la versione 12 Tesla ha introdotto la guida autonoma interamente basata sulle reti neurali e sull'intelligenza artificiale. Verrà rilasciata a breve, le solite 2x di Elon, la 12.4 che per quello che ha detto lui insomma ha riprocessato completamente, riaddestrato tutti i vari modelli. Che cosa significa? Significa sia le simulazioni sia i dati reali, riprocessando e quindi rimandando alle macchine completamente un nuovo sistema di gestione delle varie situazioni. E' proprio questa la forza dello studio dell'FSD che sta facendo Tesla, basato proprio sui casi reali e sulle simulazioni che sono difficilissime da trovare poi nella realtà ma che comunque vengono insegnate al sistema. E questa è la base dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Tanti dati per addestrare le reti neurali. E dice nello specifico che la 12.4 servirà in particolare per migliorare il comfort di guida, quindi evitare accelerate troppo brusche e frenate troppo brusche. Ma la cosa interessante secondo me arriverà con la 12.5 e la 12.6 che sono già in sviluppo e già in prova internamente a Tesla e nella parte che vedete evidenziata, ecco questa è la cosa importante perché intanto dice che stanno provando casi veramente limite, quindi strade chiuse, strade sterrate, deviazioni eccetera eccetera. Ma nell'ultima parte, e qui è la prima volta che Iron parla della comunicazione tra macchine e ora vi spiego a breve il perché, perché dice che quando una macchina trova una strada chiusa magari per lavori o per un incidente o per qualsiasi cosa, comunicherà alle altre macchine che la strada è chiusa in modo tale da evitare che tutte le Tesla arrivino lì e si fermino allo stesso punto, ma tra l'altro dice anche che con queste versioni la macchina finalmente sarà in grado anche di fare retromarcia e cambiare strada. La retromarcia non è ancora stata inserita come diciamo attività automatica della guida autonoma. Perché è importante questa cosa? Perché lo sviluppo di tutta la guida autonoma di Tesla si basa sulla singola macchina che funziona in qualsiasi caso, anche senza connessione, anche senza mappe, anche senza righe per terra, perché l'auto deve essere in grado di guidare da sola. E questa è l'enorme differenza per esempio dai robotaxi che già esistono negli Stati Uniti. Per esempio Waymo e Cruise dove le auto sono tutte connesse e connesse a loro volta a una sala operativa, insomma una sala centralizzata che ne gestisce la flotta. Tesla ha ragione in modo totalmente opposto, cioè ogni macchina deve essere completamente indipendente. Però se c'è la connessione è ancora meglio, perché nel momento in cui, diciamo alla Waze maniera, qualche auto segnala una qualche anomalia su una strada, avvisa quelle che sono nei paraggi o quelle che stanno arrivando su quella strada, in modo tale da ripianificare il percorso. È davvero uno sviluppo molto molto interessante. Ultimamente si è parlato tanto della rete Supercharger, non tanto della rete in sé, ma del fatto che Tesla ha licenziato parte del team che si occupa proprio della rete Supercharger e quindi si è scritto un po' in maniera secondo me erronea il fatto che Tesla non è più interessata alla rete Supercharger, che non la espanderà, che andrà in malora, che andrà in decadimento totale, ragnatele sulle colonnine Supercharger. No, non è questo il punto. Tra l'altro non so perché questa notizia abbia fatto tutto questo scalpore, visto che fa parte della riorganizzazione interna di cui abbiamo già parlato ampiamente in puntate dei Lampi. Perché? Cosa ha detto Elon? Ha detto che Tesla assolutamente continuerà a investire nella rete di Supercharger e non vedo perché dovrebbe fare il contrario e anzi ha dato delle cifre perché parla di 500 milioni di dollari che investirà quest'anno solo per quanto riguarda l'espansione della rete, quindi senza considerare i costi di utilizzo, di mantenimento della rete e di manutenzione in generale della rete. Quindi significa che Tesla continua a espandere i Supercharger. Quello che aveva detto Elon qualche giorno fa era che daranno più priorità all'espansione di luoghi dove già ci sono dei Supercharger e meno priorità alla creazione di nuovi luoghi di Supercharger. Ma ovviamente si riferiva agli Stati Uniti dove la capillarità dei Supercharger è decisamente maggiore rispetto all'Europa perché la situazione dei punti di ricarica veloce è totalmente diversa. Negli Stati Uniti se non ci fossero i Supercharger praticamente quasi non si potrebbe viaggiare perché altri gestori, di altri gestori ce ne sono pochi. In Europa è totalmente diverso, quindi la rete Supercharger continuerà a crescere, quindi non preoccupatevi e il fatto della notizia dei licenziamenti, ripeto, continua quella sorta di ottimizzazione interna che abbiamo visto anche in altri settori dove la rete continua a crescere ma tutto il settore dell'azienda viene ottimizzato. Quindi se in passato per ottenere un determinato risultato avevo bisogno di un certo numero di persone, a oggi il processo è molto più ottimizzato e ho bisogno di meno persone, quindi riduco i costi fondamentalmente. Brutte notizie purtroppo per chi vuole una Model 3 nera perché mentre fino a un paio di giorni fa il colore nero era gratuito esattamente come il bianco, da oggi ha un sovrapprezzo di 1.300€. Rientra comunque nella cifra incentivabile quando usciranno gli incentivi, però comunque bisogna sborsare 1.300€ in più. E questo significa solo una cosa che ci saranno una marea di auto bianche. Colore che mi piace tantissimo, però sono tutte bianche. Vi ricordo che manca poco più di un mese all'evento di Varano de Melegari il 15 giugno, sabato pomeriggio. Ci vediamo al circuito di Varano per girare in pista chi vuole, stare insieme in generale, fare una cena tutti insieme e poi lo spettacolo di luci. Vi ricordo lampiditesla.it slash eventi per le iscrizioni. Attenzione che per chi vuole partecipare al buffet è necessario prenotarsi entro il 3 giugno. Per quanto riguarda la pista possiamo andare anche un po' più in là, però io vi consiglio, se siete interessati, di cominciare a prenotarvi. Comunque tutte le informazioni nel video che vi lascio qui sopra e sul sito lampiditesla.it. Passiamo ora ai ringraziamenti. Comincio con Andrea che ha supportato il canale, grazie mille. E mi ha scritto Ciao Fabrizio, ti invio il mio rinnovo di abbonamento ai lampidi tesla. Grazie mille. Non so se ci sarò a Varano per farti un saluto di persona. Spero che tu riesca a essere presente. Grazie ancora per la compagnia che mi tiene la mattina anche se di pochi minuti. pensi a fare i podcast dei video in auto sarebbero comodi da ascoltare. Beh, i podcast ci sono, però solo dei lampi. Degli altri video ha poco senso perché hanno un format fatto per YouTube, quindi anche con le immagini. Invece i lampi li trovate sulle maggiori piattaforme podcast, Spotify, Google, Apple, insomma. Li trovate. E poi un altro saluto e ringraziamento a Emanuele. Aveva bisogno di qualche informazione riguardante l'assicurazione. Beh, ci siamo sentiti via mail. Spero ti sia stato utile quello che ci siamo detti. E poi un altro ringraziamento anche a Ruggero. Grazie mille per il tuo supporto. Beh, questo è tutto per oggi. Io vi ringrazio come sempre e ci vediamo alla prossima. Ciao.